Buongiorno a tutti, ma dipende da voi se sarà un buongiorno o no, perché voi decidete, forse non lo sapete, ma le azioni che fate oggi determinano le azioni che farete domani. Se oggi volete fare qualcosa di buono ve lo ritroverete domani, lo stesso di cattivo. Se volete vivere bene dovete decidirlo oggi, se volete imparare bene qualcosa dovete decidirlo oggi. Se volete imparare la chitarra bene c'è il metodo chitarra mica e ringrazio nel frattempo tutti quelli che si sono iscritti fino adesso e gli auguro buon studio, per ora sono tutti soddisfatti, ho fatto una piccola indagine. Quelli che ancora sono indecisi date un'occhiata per favore al sito web e spiegate tutto dettagliatamente quello che farò. Quindi siate gli artefici del vostro futuro, decidete adesso di imparare bene, di imparare velocemente e senza stupidi errori o senza dilungaggini perché così la lezione è più... Insomma quando il maestro vede arrivare uno studente dice questo è un cliente, come il dottore quando vede arrivare un malato questo è un cliente, non possiamo farlo guarire subito altrimenti lo perdiamo. Lo stesso il maestro dice non posso insegnargli tutto adesso, se no dopo non viene più. La chitarra mica non è così, la chitarra mica vuole che tu impari in fretta perché ha uno scopo nella vita di insegnare bene e correttamente a suonare e a vivere perché voi imparerete anche a vivere bene. Perché nel metodo non ci sono soltanto indicazioni sulla chitarra, ci sono anche indicazioni sulla vita, sul come vivere, sul come costruirsi una buona esistenza. Perché si fa quello che si vuole, non quello che si può. Arrivederci.